La cosa però, tanto i tifosi di Milan sono molto contenti stasera, dalla parte di là c'è il portiere più forte del mondo, e l'ha dimostrato ancora stasera in un clima surreale. Gigi Donnarumma, il portiere più forte del mondo, spiegale un attimo questa, perché l'ha dimostrato ancora di più questa sera? Sapete quanto ami Magnanne e quanto mi piace come interpreta il ruolo, ma quello lì oggi fa 3-4 parate in una situazione climatica per lui, ambientale, per lui difficilissima, fa 2-3 parate senza senso, siamo veramente fortunati a essere italiani. Donnarumma è uno dei portiere più forti del mondo, e se non fossi, probabilmente sei milanista, qualsiasi altro stato del mondo sarebbe orgogliosissimo di avere Donnarumma come calciatore della propria nazionale. Grazie.